Però oggi io sono particolarmente arrabbiato e sono stufo di sentire ogni volta che succedono queste cose e mi dispiace, pianti e le marce della pace. Adesso è arrivato il momento di raccontarci e dire qual è la verità. La verità è che l'integrazione non esiste. Queste persone a Molenbeck prendevano sussidi e tutto quel quartiere prende sussidi da un sindaco socialista di Molenbeck e fondi di quello Stato vanno a quelle persone che vivono grazie alle tasse e ai contributi pagati da altri cittadini europei. La verità è che esiste, esiste purtroppo, perlomeno una parte di una religione che non è come le altre, non raccontiamoci balle, l'Islam non è come le altre regioni, che alimenta l'odio indifferentemente dal grado di integrazione più o meno che c'è nei diversi paesi. Io ricordo benissimo la sinistra che in questo paese per anni ci ha venduto l'integrazione dei paesi del nord Europa come modello. Il modello è il modello purtroppo di sacche dove viene alimentato e vive il terrorismo, dobbiamo rispondere andando, perché non è vero che sono Molenbeck, andiamo nelle baglie parigine dove venivano protetti i terroristi e allora io oggi sono arrabbiato e dico che bisogna reagire.